Territori Coop è un progetto nato per valorizzare i prodotti e i produttori locali, custodi della tradizione no gastronomica del nostro paese. Territori.coop.it è anche la rivista online dei prodotti di origine raccontata. Una raccolta delle buone pratiche portate avanti da Coop e dai suoi fornitori sui temi della sostenibilità, della difesa delle tradizioni e dell'impegno per la qualità. Un portale ricco di video, reportage fotografici, news sul mondo del cibo. Vai su www.territori.coop.it e sulle pagine social per conoscere la storia di tanti prodotti locali. Grazie a tutti.